capitolo 10 coriolanus conosceva le bombe e le bombe lo terrorizzavano anche quando l'onda d'urto lo sollevò e lo scaraventò verso l'interno dell'arena le sue braccia si sollevarono a protezione della testa quando tocco terra si appiattì automaticamente sul ventre la guancia premuta nella polvere un braccio piegato a coprire l'occhio e l'orecchio esposti la prima esplosione che sembrava essere arrivata dal cancello principale diede inizio a una serie di deflagrazioni intorno all'arena correre era fuori questione poteva solo aggrapparsi al terreno che rimbombava sperare che il caos avesse fine e tentare di tenere sotto controllo il panico era entrato in quello che lui e tigris avevano soprannominato intervallo bomba quell'arco di tempo surreale in cui i momenti si andevano e si contraevano in modi che parevano sfidare la scienza durante la guerra capital city aveva assegnato a ogni cittadino un rifugio vicino alla propria residenza lo splendido palazzo degli snow disponeva di un piano interrato così robusto e spazioso da ospitare non solo gli inquilini ma mezzo isolato purtroppo il sistema di sorveglianza dipendeva quasi interamente dall'elettricità con la corrente che andava e veniva e la luce che tremolava per via delle interferenze ribelli del distretto 5 le sirene erano inaffidabili e capitava spesso che fossero colti di sorpresa e non avessero il tempo di rinchiudersi in cantina in quei momenti lui tigris e la signora nonna sempre che non stesse cantando l'inno si nascondevano sotto il tavolo da pranzo un affare imponente ricavato da un unico blocco di marmo che si trovava in una stanza interna anche in assenza di finestre e con la solida roccia sopra la testa coriolanus aveva i muscoli che si irrigidivano per il terrore quando udiva il fischio delle bombe e passavano ore prima che si sentisse di nuovo saldo sulle gambe le strade non erano sicure e nemmeno l'accademia le bombe potevano cadere ovunque ma coriolanus di solito aveva un posto migliore di quello dove rifugiarsi ora inerme di fronte all'attacco steso lì allo scoperto attendeva che l'interminabile intervallo bomba finisse e si chiedeva quanti danni stessero subendo i suoi organi interni nessuno overcraft l'illuminazione gli ribollì nel cervello non c'era stato nessuno overcraft allora quelle bombe erano interrate sentiva odore di fumo perciò alcune dovevano essere incendiarie si premette il fazzoletto sulla bocca e sul naso strizzando gli occhi nella foschia nera resa più fitta dalla sporcizia dell'arena scorse lucy gray a circa quattro metri da lui raggomitolata con la fronte sul terreno e due dita nelle orecchie il meglio che poteva fare con le manette ai polsi tossiva senza riuscire a smettere copriti la faccia usa il tovagliolo gridò lui la ragazza non si girò ma doveva aver sentito perché si rotolò su un fianco e lo recuperò dalla tasca il pane e il pollo caddero a terra mentre si premeva la stoffa sul viso coriolanus pensò per un attimo che l'accaduto non avrebbe favorito il suo canto la quiete lo ingannò facendogli credere che fosse tutto finito ma proprio mentre alzava la testa un'ultima esplosione tra le tribune sopra di lui distrusse ciò che un tempo era un punto di ristoro lo zucchero filato rosa le miele caramellate e detreti roventi gli piovero addosso qualcosa lo colpì con violenza alla testa e il grosso peso di una trave gli cadde in diagonale sulla schiena inchiodandolo a terra stordito coriolanus giacque praticamente svenuto per un po poi l'odore acre di bruciato gli pizzicò il naso e si accorse che la trave era in fiamme tentò di riprendersi e di liberarsi ma tutto ondeggiava davanti ai suoi occhi e la torta alle pesche gli si nacidì nello stomaco aiuto gridò intorno a lui si levavano implorazioni simili ma in mezzo a quella nube non riusciva a vedere i feriti aiuto il fuoco gli strinò le punte dei capelli e con rinnovato impegno cercò di scivolare sotto la trave senza riuscirci un dolore lancinante cominciò ad attanagliargli il collo e la spalla mentre veniva colto dalla spaventosa consapevolezza che sarebbe morto bruciato vivo urlò ancora e ancora e ciò nonostante sembrava essere da solo in una bolla di fumo scuro e macerie fiammeggianti a quel punto scorse una figura che sorgeva dall'inferno lucy gray pronunciò il suo nome poi voltò la testa di scatto l'attenzione catturata da qualcosa che lui non riusciva a vedere e si allontanò di qualche passo quindi esitò chiaramente indecisa lucy gray supplicò coriolanus in tono sfinito ti prego la ragazza lanciò un ultimo sguardo a ciò che l'aveva tentata poi gli corse accanto la trave si spostò dalla sua schiena ma gli ricadde addosso subito dopo si sollevò una seconda volta lasciandogli uno spazio appena sufficiente per trascinarsi via lei lo aiutò a rialzarsi e con il suo braccio gettato intorno alle spalle lo condusse zoppicando lontano dalle fiamme fino a che entrambi non crollarono da qualche parte al centro dell'arena in un primo momento la tosse e i conati reclamarono tutta l'attenzione di coriolanus che solo dopo un po' cominciò a fare caso al dolore alla testa e alle ustioni sul collo la schiena e le spalle per qualche motivo le sue dita erano strette alla gonna bruciacchiata di lucy gray come se fosse un'ancora di salvezza le mani legate della ragazza vistosamente ustionate erano serrate a pugno lì vicino il fumo si diradò a sufficienza da permettergli di vedere lo schema secondo cui erano state interrate le bombe a intervalli tutto intorno all'ovale con la fonte principale di esplosivi piazzata all'ingresso i danni erano così ingenti che riusciva a scorgere la strada oltre il cancello ad occhio a due figure che scappavano dall'arena era quello il motivo per cui lucy gray aveva esitato prima di andare in suo aiuto la possibilità di fuggire altri tributi dovevano per forza aver colto l'occasione al volo sì ora sentiva le sirene le grida dalla strada i medici avanzavano tra le macerie e corsero verso i feriti va tutto bene disse lui a lucy gray i soccorsi stanno arrivando alcune mani si allungarono per prenderlo e sistemarlo su una barella coriolanus lasciò andare le balze credendo che ci sarebbe stata un'altra barella per lei ma mentre lo portavano via vide un pacificatore costringerla a stendersi a pancia in giù e spingerle la canna del fucile contro il collo urlando le una serie di volgarità lo sì gray gridò nessuno gli prestò attenzione il colpo alla testa gli rendeva difficile concentrarsi ma si rese conto del viaggio in ambulanza degli urti mentre varcava la porta che conduceva alla stessa zona d'attesa in cui aveva bevuto la bevanda frizzante al limone appena un giorno prima e poi dello spostamento su un tavolo operatorio sotto una luce intensa mentre un'equipe medica cercava di valutare i danni che aveva subito avrebbe voluto dormire ma quelli continuavano a stargli a un centimetro dal naso e a chiedergli cose facendogli tornare la nausea con il loro alito rancido del pranzo dentro i macchinari fuori dai macchinari aghi che lo pungevano e alla fine per fortuna il permesso di appisolarsi per tutta la notte a intervalli regolari qualcuno lo svegliò e gli puntò delle luci negli occhi purché riuscesse a rispondere ad alcune semplici domande poi lo lasciavano ricadere nell'oblio quando infine la domenica si svegliò davvero la luce dalla finestra suggeriva che fosse pomeriggio e la signora nonna i tigris erano chine su di lui con sguardi preoccupati provò una calda sensazione di conforto non sono solo pensò non sono nell'arena sono al sicuro ciao corio disse tigris siamo noi e tentò un sorriso ti sei persa l'intervallo bomba ho scoperto che stare lontano è peggio replicò tigris sapendo che affrontavi tutto da solo non ero solo disse la morfamina e la commozione cerebrale gli rendevano difficile ricordare le cose con chiarezza c'era lucy gray credo che mi abbia salvato la vita non riusciva proprio a digerire l'idea che era dolce sì ma anche inquietante tigris gli strinse la mano non mi sorprende è evidente che è una brava ragazza ha cercato di proteggerti dagli altri tributi fin dall'inizio la signora nonna non era del tutto persuasa dopo che il nipote ebbe ricostruito per lei il susseguirsi delle esplosioni arrivò a concludere beh magari ha pensato che i pacificatori l'avrebbero abbattuta a fucilate se fosse scappata però dimostra comunque un certo carattere forse non è davvero una dei distretti come dice proprio un grosso complimento o il più grosso che la signora nonna era in grado di mettere insieme quando tigris lo aggiornò sui particolari che si era perso capì fino a che punto quell'avvenimento avesse scosso capital city quello che era accaduto o almeno quello che era accaduto secondo capital news aveva terrorizzato i cittadini sia per le sue conseguenze immediate sia per le ripercussioni future non si sapeva chi avesse collocato le bombe ribelli certo ma venuti da dove potevano arrivare da uno qualunque dei 12 distretti o essere un gruppo raccogliticcio che era fuggito dal distretto 13 o anche non sia mai far parte di una cellula da tempo quiescente proprio lì a capital city la tempistica dell'evento era sconcertante visto che l'arena rimaneva deserta chiusa a chiave e abbandonata tra un'edizione e l'altra degli hunger games le bombe potevano essere state piazzate sei giorni come sei mesi prima le videocamere di sicurezza coprivano gli ingressi intorno all'ovale ma l'esterno fatiscente rendeva possibile scalare la struttura non si sapeva neppure se gli ordigni fossero stati innescati a distanza o da un passo falso ma le morti inattese avevano scosso capital nel profondo che i due tributi del distretto 6 fossero stati uccisi da schegge suscitava poco interesse ma la stessa esplosione aveva stroncato la vita dei gemelli ring oltre a coriolanus altri due mentori erano stati ricoverati in ospedale androclus anderson e gaius brin ai quali erano stati assegnati i tributi del distretto 9 erano in condizioni critiche gaius aveva perso entrambe le gambe e quasi tutti gli altri presenti nell'arena che fossero mentori tributi o pacificatori avevano avuto bisogno di cure mediche di qualche genere coriolanus si sentiva smarrito pollo e didi gli piacevano davvero gli piaceva come stravedevano l'uno per l'altra il loro essere sempre positivi da qualche parte lì vicino la vita di androclus che aspirava a diventare giornalista per capital news come la madre era appesa un filo e lisistrata sta bene si preoccupò visto che si trovava dietro di lui nell'arena la signora nonna parve a disagio a lei sta benissimo va in giro a raccontare che quel ragazzo grosso e brutto del distretto 12 le si è buttato addosso e la protetta con il suo corpo ma chi può dirlo la famiglia vickers adora la luce dei riflettori sul serio chiese coriolanus scettico non riusciva a ricordare di aver mai visto neanche una volta un vickers sotto i riflettori tranne che per la succinta conferenza stampa annuale nella quale il medico del presidente ravenstil ne confermava il perfetto stato di salute lisistrata era una persona indipendente e diligente che non attirava mai l'attenzione su di sé anche solo l'insinuazione che potesse rientrare nella stessa categoria di aracne gli dava sui nervi ha rilasciato solo una breve dichiarazione a un giornalista subito dopo l'esplosione delle bombe credo che abbia detto la verità signora nonna disse tigris forse gli abitanti del distretto 12 non sono poi cattivi come li dipingi sia jessup sia lucy gray si sono comportati con coraggio hai visto lucy gray in tv intendo ti sembra che stia bene chiese lui non lo so corio non è stato trasmesso nessun filmato dello zoo però non è nell'elenco dei tributi morti rispose tigris ce ne sono altri oltre a quelli del distretto 6 curiolanus non voleva apparire morboso ma erano i rivali di lucy gray sì qualcuno dopo l'esplosione delle bombe gli disse tigris le coppie del distretto 1 e del distretto 2 si erano dirette verso il grande buco che le cariche avevano aperto vicino all'ingresso i ragazzi dell'uno erano stati uccisi fermati dalle pallottole la ragazza del 2 era arrivata al fiume aveva saltato il muro ma era morta cadendo e marcus era scomparso il che significava avere un ragazzo grande grosso disperato e pericoloso a piede libero in città un tombino fuori posto suggeriva che fosse sceso sottoterra per raggiungere lo scambio la rete sotterranea di binari e strade di capitol city ma nessuno ne aveva la certezza immagino che vedano l'arena come un simbolo disse la signora nonna proprio come in tempo di guerra il peggio è che ci sono voluti quasi 20 secondi prima che venisse interrotta la diretta nei distretti quindi non c'è dubbio che lo spettacolo abbia offerto un motivo per festeggiare a quella gentaglia bestie che non sono altro però dicono che nei distretti non l'ha visto quasi nessuno replicò tigris alla gente di lì non piace guardare i servizi sugli hunger games che passano in tv bastano quattro gatti per spargere la voce insiste la signora nonna è proprio il genere di storia che infiamma gli animi e si diffonde come un incendio il medico che aveva parlato con coriolanus dopo la faccenda dei serpenti entrò nella stanza e si presentò come il dottor wayne spedì a casa migris e la signora nonna e fece una rapida visita di controllo a coriolanus spiegandogli la natura della commozione cerebrale abbastanza leggera e delle ustioni che rispondevano bene alle cure la guarigione completa avrebbe richiesto un po di tempo ma se si fosse comportato bene e avessi continuato a migliorare lo avrebbero dimesso nel giro di un paio di giorni sa come sta il mio tributo aveva ustioni piuttosto gravi alle mani chiese coriolanus ogni volta che pensava lucy gray sentiva una fitta di inquietudine ma poi la morfamina lo avvolgeva come ovatta no non lo so disse il medico però per i tributi feriti hanno fatto arrivare una veterinaria di primordine ritengo che starà benissimo per quando verranno inaugurati i giochi ma questo non deve interessarti giovanotto a te deve interessare solo rimetterti in sesto e per farlo hai bisogno di riposare coriolanus fu ben felice di assecondare il dottore scivolò di nuovo nel sonno e non riprese del tutto conoscenza fino a lunedì mattina con la testa dolorante il corpo ammaccato non aveva nessuna fretta di uscire dall'ospedale l'aria condizionata dava sollievo alle sue bruciature e con regolarità comparivano generose porzioni di cibo insipido si rimise in pari con le notizie che passavano alla tv mentre sorseggiava tutta la bibita al limone che riusciva a mandare giù il giorno dopo si sarebbe tenuto un doppio funerale per i gemelli ring la caccia a marcus continuava sia capital city sia i distretti erano sotto stretta sorveglianza tre mentori morti tre feriti quattro in realtà se si contava clemenzia sei tributi uccisi uno in fuga molti feriti se la dottoressa gol voleva un rinnovamento profondo per younger games l'avevo ottenuto nel pomeriggio la sfilata dei visitatori iniziò con festus che sfoggiava un braccio al collo e qualche punto là dove una scheggia di metallo gli aveva sfregiato una guancia disse che l'accademia aveva cancellato le lezioni ma che gli studenti avrebbero dovuto presentarsi la mattina dopo per il funerale dei ring gli venne un nodo alla gola nel parlare dei gemelli e coriolanus si chiese se la sua reazione sarebbe stata più emotiva quando gli avessero tolto la flebo di morfamina che attutiva sia il dolore sia la gioia satiria fece un salto portandogli dei biscotti e gli auguri del corpo insegnante per quanto spiacevole l'incidente poteva solo aumentare le sue probabilità di vincere un premio gli disse dopo un po si presentò seianus in colume con lo zaino di coriolanus recuperato dal furgone e un mucchio degli squisiti panini al polpettone di sua madre disse ben poco sul suo tributo in fuga alla fine arrivò tigris senza la signora nonna che era rimasta a casa a riposare ma gli aveva mandato una divisa pulita da indossare quando fosse stato dimesso se ci fossero state le telecamere voleva che lui si mostrasse al meglio si divisero i panini e poi tigris gli accarezzò la testa finché non si scopì proprio come faceva quando da bambino le emicranie lo tormentavano quando qualcuno lo svegliò in piena notte immaginò che fosse un'infermiera venuta a controllare i suoi parametri vitali ma poi sobbalzò nel vedere il viso devastato di clemenzia sopra il suo il veleno dei serpenti o forse l'antidoto le avevano screpolato la pelle dorata e tinto il bianco dei suoi occhi del colore dei tuorli d'uovo ma peggio ancora erano gli spasmi che le scuotevano tutto il corpo facendo sì che il suo viso fosse una continua smorfia che la lingua le sporgesse dalla bocca intervalli regolari e che le sue mani si allontanassero di scatto anche mentre si allungavano per prendere le sue sshhh Sibilo non dovrei essere qui non dire ad anima viva che sono venuta ma cosa si dice in giro perché nessuno è venuto a trovarmi i miei genitori sanno quello che è successo credono che sia morta intontito dal sonno e dalle medicine Coriolanus non riusciva proprio a capire di cosa stesse parlando i tuoi genitori ma loro sono stati qui li ho visti no nessuno mi ha fatto visita gridò lei devo uscire di qui Corio ho paura che lei voglia uccidermi qui non è sicuro noi non siamo al sicuro cosa chi è che vuole ucciderti dici cose senza senso replicò Coriolanus la dottoressa gol naturalmente gli strinse forte un braccio risvegliando le sue ustioni lo sai tu c'eri Coriolanus tentò di aprirle le dita devi tornare nella tua stanza sei malata Clemmy sono i morsi dei serpenti ti fanno immaginare le cose l'ho immaginato questo si strappò l'allacciatura del camice da ospedale e scoprì una porzione di pelle che si allargava sul petto e giù per una spalla chiazzata di squame blu elettrico rosa e gialle aveva le stesse caratteristiche da rettile di quella dei serpenti nel terrario vedendolo restare senza fiato Clemenzia urlò e diventa sempre più grande sempre più grande due inservienti dell'ospedale la afferrarono proprio in quel momento sollevandola di peso e la portarono via dalla stanza Coriolanus rimase sveglio per il resto della notte pensando ai serpenti alla pelle di Clemenzia e alle grosse teche di vetro dei senza voce con le loro orribili alterazioni animali nel laboratorio della dottoressa Goll era quello il posto cui era destinata Clemenzia e se non lo era perché i suoi genitori non erano andati a trovarla perché nessuno tranne lui pareva sapere cos'era successo se Clemenzia fosse morta sarebbe sparito anche lui che era l'unico testimone aveva messo in pericolo Tigris raccontandole la storia adesso persino il gradevole bozzolo dell'ospedale gli sembrava una trappola insidiosa che si stringeva per soffogarlo le ore strisciavano via e nessuno passava a controllarlo il che aumentava la sua angoscia alla fine proprio allo spuntare dell'alba il dottor Wayne si materializzò al suo capezzale ho sentito che Clemenzia è venuta a farti visita qualche ora fa disse tutto allegro ti ha spaventato un po' Coriolanus tentò di apparire disinvolto si rimetterà il veleno provoca molti effetti collaterali insoliti a mano a mano che viene smaltito dall'organismo è per questo che non abbiamo permesso ai suoi di vederla credono che sia in quarantena con un'influenza altamente contagiosa ma tra un giorno o due sarà presentabile gli spiegò il dottore puoi andare a trovarla se te la senti d'accordo disse Coriolanus un po' rincuorato ma non poteva dimenticare quello che aveva visto all'ospedale e anche al laboratorio la rimozione della flebo di morfamina fece in modo che i ricordi fino ad allora dai contorni sfocati emergessero prepotentemente i suoi sospetti contaminarono ogni lusso che gli era stato concesso quel giorno dall'abbondante colazione a base di frittelle e pancetta al cesto di dolci e frutta fresca fatto recapitare dall'accademia fino alla notizia che la sua esecuzione dell'inno sarebbe stata riproposta al funerale dei ring sia per la qualità della performance sia in omaggio ai suoi sacrifici personali la telecronaca delle esequie iniziò con un collegamento alle sette e alle nove il corpo studentesco tornò ad affollare la scalinata davanti all'accademia solo una settimana prima Coriolanus aveva avuto l'impressione di precipitare nell'irrilevanza con l'assegnazione della ragazza del distretto 12 e adesso veniva onorato per il suo coraggio di fronte all'intera nazione si aspettava che trasmettessero un video in cui cantava e invece dietro il podio apparve la sua immagine olografica all'inizio un po sbiadita poi sempre più chiara e nitida la gente diceva sempre che somigliava al suo bel padre ogni giorno di più ma era la prima volta che quella somiglianza risultava evidente anche a lui non erano solo gli occhi ma la linea della mascella i capelli il portamento fiero e lucy gray aveva ragione la sua voce emanava autorevolezza nel complesso l'esibizione era davvero notevole capital city raddoppiò gli sforzi compiuti per il funerale di aracne cosa che coriolanus giudicò appropriata per i gemelli più discorsi più pacificatori più bandiere non lo infastidì vedere elogiare i due compagni a volte anche troppo e avrebbe tanto voluto che sapessero in qualche modo che il suo ologramma aveva aperto la cerimonia il totale dei tributi morti era aumentato con i due del distretto 9 deceduti per le ferite riportate a quanto pareva la veterinaria aveva fatto del suo meglio ma le sue reiterate richieste che venissero ricoverati in ospedale erano state respinte i loro corpi deturpati insieme a ciò che rimaneva dei tributi del distretto 6 furono gettati in groppa un paio di cavalli e fatti sfilare lungo via dell'accademia i due tributi del distretto 1 e la ragazza del distretto 2 come si addiceva al loro codardo tentativo di fuga venivano trascinati nella polvere dietro gli altri seguivano due camion provvisti di gabbia uguali a quello su cui aveva viaggiato coriolanus andando allo zoo uno per i maschi e uno per le femmine si sforzò di vedere lucy gray ma non riuscì a individuarla il che aumentò le sue preoccupazioni era forse distesa sul fondo inerte sopraffatta dalle ferite e dalla fame quando l'obiettivo mise a fuoco le identiche bare argente e dei gemelli l'unica cosa cui riuscì a pensare fu lo stupido gioco che si erano inventati durante la guerra nel cortile della scuola e che chiamavano ring nel ring i bambini rincorrevano didi e pollo e poi prendendosi per mano formavano un cerchio intorno a loro intrappolandoli finiva sempre con tutti quanti fratelli ring compresi che ridevano a crepa pelle a terra l'uno sull'altro se avesse avuto ancora sette anni per gettarsi allegramente sui suoi amici con i biscotti energetici ad attenderlo sul banco dopo pranzo il dottor wayne gli disse che poteva essere dimesso a patto che promettesse di stare tranquillo e a riposo dato che il fascino dell'ospedale era diminuito parecchio coriolanus indossò immediatamente la divisa pulita tigris andò a prenderlo e lo accompagnò a casa in tram ma poi dovette tornare al lavoro sia lui sia la signora nonna passarono il pomeriggio a dormire e coriolanus fu svegliato da un bel pasticcio di carne mandato dalla madre di seianus su insistenza di tigris andò a letto insieme al sole ma il sonno gli sfuggiva ogni volta che chiudeva gli occhi vedeva le fiamme tutto intorno a sé avvertiva il tremito del terreno sentiva l'odore del soffocante fumo nero fino a quel momento lucy gray era rimasta al margine dei suoi pensieri ma ora non riusciva a pensare ad altro come stava guariva e le davano da mangiare o soffriva e pativa la fame in quell'orribile gabbia delle scimmie mentre lui se n'era stato sdraiato all'ospedale con l'aria condizionata e la sua flebo il veterinario si era occupato di lei il fumo aveva danneggiato la sua voce eccezionale per andare in suo soccorso aveva forse compromesso le sue possibilità di avere sponsor nell'arena provava un po di imbarazzo quando pensava al proprio terrore sotto quella trave ma ancora di più quando ricordava ciò che era accaduto dopo le immagini delle esplosioni passate su capital tv erano state offuscate dal fumo ma esisteva esisteva un filmato in cui si vedeva che lucy gray lo salvava e molto più grave lui che si aggrappava alla gonna a balze della ragazza mentre aspettavano l'arrivo dei soccorsi rovistò nel cassetto del comodino e trovò il porta cipria della madre mentre inalava il profumo di rose i suoi pensieri si placarono un po ma l'inquietudine lo spinse ad alzarsi nelle ore successive vagò per l'attico guardando il cielo notturno il corso sottostante le finestre dei vicini dall'altra parte della strada a un certo punto si ritrovò sul tetto tra le rose della signora nonna e non ricordava nemmeno di aver salito le scale fino al giardino l'aria fresca della notte profumata dai fiori lo aiutò a calmarsi ma ben presto gli provocò un attacco di brividi che tornò a fargli sentire dolore dappertutto tigris lo trovò seduto in cucina qualche ora prima dell'alba preparò del tè e mangiarono gli avanzi del pasticcio direttamente dalla teglia gli strati gustosi di carne patate e formaggio lo rincuorarono così come le parole gentili con cui tigris gli ricordò che la condizione di lucy gray non era colpa sua in fondo loro due erano ancora dei bambini le cui vite erano dettate da poteri superiori un po confortato riuscì a sonnecchiare per qualche ora prima di essere svegliato da una telefonata di satiria con cui la donna lo esortava ad andare a scuola quella mattina se ce la faceva era stato fissato un altro incontro mentori tributi con l'idea di lavorare alle interviste che a quel punto sarebbero state facoltative più tardi all'accademia mentre dalla balconata guardava heavens be all le sedie vuote lo innervosirono nella sua testa sapeva benissimo che otto tributi erano morti e che uno era scomparso ma non aveva previsto quanto quella situazione si sarebbe ripercossa sullo schema dei 24 tavolini che ormai era completamente saltato niente tributi per i distretti 1 2 6 o 9 e solo uno per il 10 i ragazzi rimasti erano per la maggior parte feriti e tutti sembravano malati quando i mentori raggiunsero i loro pupilli le perdite si fecero ancora più evidenti sei erano morti o in ospedale e coloro che erano abbinati ai fuggiaschi dei distretti 1 e 2 non avevano nessuno al loro tavolo e quindi nemmeno un motivo per presentarsi livia kerdio era stata esplicita riguardo a quella svolta aveva insistito perché venissero portati altri tributi dai distretti o perché almeno le dessero mortifer il ragazzo assegnato a clemenzia che tutti credevano ricoverata per l'influenza i suoi desideri non erano stati soddisfatti e mortifer sedeva da solo al suo tavolo la testa avvolta in una benda macchiata di sangue secco color ruggine mentre coriolanus prendeva posto di fronte a lei lucy gray non provò nemmeno a sorridere una tosse aspra le raschiava la gola e la fuligine prodotta dal fuoco era ancora incollata al suo vestito in compenso la veterinaria aveva superato le aspettative di coriolanus perché la pelle delle sue mani stava guarendo bene ciao disse spingendo attraverso il tavolo un panino al burro di arachidi e due dei biscotti di satiria ehi disse lei con voce rauca aveva abbandonato i tentativi di civetteria e persino di cameratismo diede un colpetto al panino però sembrava troppo stanca per mangiarlo grazie no grazie a te per avermi salvato la vita lo disse in tono leggero ma quando la guardò negli occhi la leggerezza si dissolse è questo che dice alla gente chiese la ragazza che ti ho salvato la vita lo aveva riferito a tigris e alla signora nonna e poi forse incerto su cosa fare di quell'informazione aveva lasciato fluttuasse via dai suoi pensieri come un sogno ora con i posti vuoti dei caduti intorno a loro il ricordo di come lei lo avesse soccorso nell'arena pretendeva tutta la sua attenzione e non poteva ignorarne il valore se lucy grey non lo avesse aiutato lui sarebbe decisamente inevitabilmente morto sarebbe stato un'altra bara scintillante carica di fiori un'altra sedia vuota quando fece per rispondere le sue parole gli si bloccarono in gola prima che le costringesse a uscire l'ho raccontato alla mia famiglia davvero ti ringrazio lucy grey beh avevo un po di tempo a disposizione disse seguendo con l'indice tremante il profilo del fiore glassato di un biscotto carini questi biscotti a quel punto coriolanus fu colto da un senso di smarrimento se lucy grey gli aveva salvato la vita le doveva cosa un panino e due biscotti era così che la ringraziava per la sua vita e non la stava ripagando in modo adeguato la verità è che le doveva tutto si sentì bruciare le guance saresti potuta scappare e se l'avessi fatto io sarei stato avvolto dalle fiamme prima che i soccorsi mi raggiungessero scappare mi sembrava una fatica eccessiva per farsi sparare replicò coriolanus scosse la testa puoi anche scherzarci su ma non cambia quello che hai fatto per me spero di poterti ripagare in qualche modo lo spero anch'io in quelle poche parole coriolanus percepì un mutamento nelle loro dinamiche come suo mentore era stato il benevolo dispensatore di doni da accogliere sempre con gratitudine ma adesso lei aveva ribaltato la situazione donandogli qualcosa di ineguagliabile in superficie sembrava tutto uguale a prima ragazza in catene ragazzo che offre cibo pacificatori a sorvegliare lo status quo ma nel profondo il loro rapporto non sarebbe mai più stato lo stesso sarebbe stato sempre in debito con lei che ormai aveva il diritto di pretendere cose non so come confessò lucy gray lanciò uno sguardo alla sala osservando i suoi avversari feriti poi lo fissò negli occhi e nella sua voce comparve una sfumatura di impazienza perché non cominciando a pensare che potrei davvero vincere grazie a tutti grazie a tutti